Storie di Serie A su Radio Serie A con RDS Un saluto da Roma dove abbiamo raggiunto l'ospite di oggi di Storie di Serie A Brescia, Bologna e Lazio, le sue squadre Alla Lazio ha trascorso una vita anche come dirigente, 18 anni in totale una vita che ci racconterà durante questa puntata a tratti è stata anche una vita clamorosa quasi da film Benvenuto Iglitare Buongiorno, grazie Igli, intanto per iniziare ti chiedo come sono le tue giornate da quando non sei più alla Lazio perché abbiamo detto la Lazio è stata a casa tua per 18 anni Ma all'inizio era un po' strano, sai, il sentimento di fare questa vita diciamo senza dei pensieri però piano piano mi sono un po' abituato Cerco di riempire le giornate con la possibilità di conoscere meglio tanti campionati europei di visitare anche da vicino diversi luoghi, stadi, club per conoscere meglio anche un po' diciamo la mentalità loro, cose che poi dopo ti servono per il tuo percorso per il futuro Diciamo che stai facendo un corso di aggiornamento obbligato Obbligato no, voluto sì Voluto sì È vero, la differenza è sostanziale C'è un po' di rabbia ogni tanto per come è finita con la Lazio e anzi ti chiedo perché è finita con la Lazio No, no, non è, non c'ho rabbia perché era una mia, è un mio desiderio, sai La Lazio rimarrà sempre, la Lazio per me è una cosa che ti entra dentro e che lo porterò sempre, ovunque sarò, lo porterò dentro come la più bella esperienza della mia vita 18 anni sono tanti, sai, ho vissuto momenti brutti, momenti belli però con il passare degli anni ho capito anche bene che il ciclo mio forse era arrivato alla fine e ho cercato di trovare anche il momento giusto, di andare nel momento giusto da questa società anche perché il rispetto nei confronti della società, della piazza, dei tifosi era molto molto grande da parte mia perciò volevo lasciarlo al top, così è stato, perciò è stata un'uscita dolorosa per i primi mesi ma poi dopo adesso mi sento bene, adesso mi sento ricaricato ma per di più posso anche dire che sarò sempre un tifoso della Lazio ma c'è stato un momento esatto in cui hai deciso, in cui hai preso la decisione o l'hai maturata nel tempo? guarda ti dico, negli ultimi anni diciamo vedevo la crescita della società qui vedevo tante cose che era questo l'obiettivo che avevo sempre avuto nella mia testa e abbiamo avuto insieme alla proprietà, diciamo capivo anche che le possibilità non erano più le stesse le aspettative erano sempre più grandi e allora ho capito che sarebbe anche per me raggiunto il momento di cercare di fare magari un break e di passare con un altro progetto anche altrove ma era un qualcosa che me la sentivo dentro, ieri ho detto anche al presidente Lottito tempo fa quando gli ho comunicato questo mio desiderio dicendosi che per me sarebbe aggiunto il momento e volevo lasciarlo nel momento giusto questa società anche come ho detto anche prima perché il legame è molto forte e allora volevo andare nel punto più alto in mente della Lazio parleremo ancora tanto però volevo focalizzare l'attenzione sui tuoi 23 anni in Italia in cosa sei diventato italiano in questi 23 anni? ma io sono sempre stato un po' italiano sai perché dalla mia nascita a Barona nella mia città natale l'Italia è come una città italiana perché si parla tutto italiano siamo cresciuti con la tv italiana con il calcio italiano con la musica italiana perciò il legame con l'Italia per me è sempre stato molto forte il mio desiderio anche quando giocavo in Germania era di venire a giocare un giorno di vivere in Italia perciò è come la mia seconda patria sai perciò ho sempre fatto questo percorso con grande piacere sai 23 anni sono tanti sai sono una vita una vita sì una vita o diciamo metà della mia vita l'ho passato in questo paese perciò gli sarò sempre grato sono anche cittadino italiano ormai perciò lo porto con fierezza questa cosa perché gli devo tanto a questo paese che mi ha accolto con grande rispetto in cosa sei rimasto albanese? i radici nostri sono molto forti sai io sono un albanese orgoglioso sai ho sempre portato ovunque sono stato l'ho portato questa cosa con grande fierezza perché so che di essere di aver far parte di aver far parte di questa prima generazione nostra nei inizi anni 90 che abbiamo lasciato il nostro paese in mezzo a mille difficoltà perciò ovunque sono stato ho cercato di dare sempre il massimo anche forse qualcosa in più perché sapevo che avevo addosso un peso molto importante di rappresentare non solo me stesso ma anche il mio popolo sai perciò il legame mio con l'albania è sempre molto molto forte questa trasmissione ci piace raccontare anche tutta la parte che magari la gente la gente conosce meno e cercheremo e cercheremo di farlo oggi intanto tu hai e avevi e portavi un cognome pesante perché insomma tuo papà lo conoscono e lo conoscevamo tutti ci racconti un po' di tuo papà e com'è il rapporto com'era il rapporto? una cosa strana ma il mio padre è molto più famoso di me in Albania sai perché io ho portato sempre quel peso diciamo di essere il figlio di sai è la stessa cosa che vale per i miei figli il figlio di e so bene cosa vuol dire a portare diciamo il peso del nome quando c'è un padre famoso mio padre viene da diciamo da una scuola militare è sempre stato diciamo un professore nell'accademia militare di tirana e la crescita diciamo nostra dei miei due fratelli è legato molto anche con lui perché la la sua la sua disciplina a cercare di trasmetterla a noi diciamo questa voglia e la determinazione di arrivare a tutti i costi in qualsiasi momento della nostra vita è sempre stata molto forte molto presente mi ricordo il fatto che ci svegliava sempre alle sei di mattina in neve pioggia sole sempre ogni mattina alle sei noi ci dovevamo svegliarsi con lui andare a fare quasi un'ora un'ora e mezza di allenamenti di corsa di allenamenti individuali per poi tornare subito fare una doccia veloce andare andare a scuola perciò avendo avuto questa diciamo cultura all'inizio l'ho sempre odiato se ho fatto molto fatica perché per un bambino accettare questo diciamo disciplina non è facile però me la sono trovato nella mia vita quando ho lasciato l'albania con sono andato in germania e grazie a questa disciplina che lui ma ha trasmesso sono riuscito anche a trovare quella strada di realizzare il mio sogno poi nel calcio ecco ma lei c'è un bambino come fa a sopportare quella sveglia alle sei quella corsa nella neve come ci raccontavi non è proprio facilissimo immagino assolutamente no sai però lui era determinato sai su queste cose non era un padre molto presente molto tranquillo ma su queste cose qua non scherzava mai perciò mi diceva sempre se vuoi diventare un giorno il calciatore devi capire che questa strada passa attraverso tanta tanto sacrificio tanto determinazione purtroppo questa è la strada oggi mi odierai ma domani mi ringrazierai e così è stato e con in questo momento ho cercato sempre anche io a trasmettere anche questa cosa anche con i miei figli perché so che è una strada difficile ma che alla fine poi dopo è l'unica strada per diventare e l'hai odiato a un certo punto effettivamente parecchie volte sì per sempre non era facile sai di svegliarsi di andare con lui sai però in un certo modo aveva un modo lui era una persona molto è una persona molto tranquillo non ti metteva mai la pressione addosso ma tu all'inizio lo dovevi subire ma poi dopo con il passaggio del tempo che diventava poi dopo con un qualcosa che lo cercavi anche te stesso che paese era la tua Albania come si viveva ma io ho dei pensieri bellissimi della mia infanzia sai sono molto legato a quell'epoca lì perché mi ricordo l'estate ogni volta andavamo a Valona a stare tre mesi di vacanza al mare mi ricordo nel mio quartiere di Tirana sempre giocare con i miei compagni e i miei amici del quartiere per le strade avevamo di fronte l'università dello sport perciò andavamo tutti i giorni a giocare basket a giocare calcio volley ginastica facevamo atletica facevamo tutte le cose e me lo riporto con grande piacere perché era era un'epoca per certi versi molto difficile da supportare ma per certi altri era bellissima perciò rimane sempre questo pensiero bellissimo la dittatura il comunismo invece ti hanno tolto qualcosa che hanno tolto tanto ma guarda sia no diciamo la dittatura lo percepivi nel modo per esempio quando andavi a scuola non dovevi portare capelli lunghi non potevi portare dei jeans perché ti davano per essere uno che rappresenta diciamo l'ideologia capitalista eccetera però in linea di massima non ho subito in una maniera forte magari altra gente sì ma io come dico come ho detto diciamo c'ho dei ricordi bellissimi perché la disciplina l'organizzazione all'epoca era molto molto importante quando andavi a scuola era obbligatorio che dovevi fare sempre la ginnastica prima di entrare a scuola per mezz'ora le attività sportive erano presente nell'organizzazione del sistema scolastico per lo sport o per le altre cose era molto importante diciamo le qualità delle infrastrutture non erano al massimo però non è che difendo quell'epoca ma a me mi è piaciuto lo ricordo con grande piacere grande nostalgia c'è stato un momento in cui non so se ti sei sentito soffocare ma hai deciso di scappare ma non sono non ho deciso di scappare sai adesso che sono che sono qui mi trovo qui penso di aver fatto una cosa sbagliata all'epoca perché il dolore che ho dato ai miei genitori era enorme adesso l'ho provato anche contro il mio figlio grande ha lasciato la casa è uscito fuori andato all'estero a provare cercare il suo percorso e gioca in austria in austria sì all'epoca diciamo era un non avevo la necessità di lasciarlo il paese perché avevo esordito con 15 anni in serie a ero titolare nell'under 21 dell'albania avevo una carriera anche magari importante magari avrei fatto avrei giocato con la nazionale molto più prima di quando ho iniziato perché ho perso una fase di quasi 5 6 anni quando sono andato in germania che diciamo mi hanno un po danneggiato nel percorso della mia carriera con la nazionale ma dall'altra parte diciamo la decisione era maturata vedendo tutto il popolo albanese che cercava di scappare all'epoca dopo la caduta del regime anche per il fatto della inflazione che era enorme perciò ho cercato anch'io questa strada con senza sapere di che esperienza avevo davanti ma è un'esperienza bellissima che mi ha maturato tantissimo anche a livello caratteriale ma sei scappato in un certo senso anche della tua famiglia o li hai avvertiti hai detto cosa avresti fatto no assolutamente no sai sono andato con il consenso della famiglia gli ho chiesto di provare questa possibilità all'inizio erano il contrario ma poi i genitori l'hanno accettato sono andato per un anno in grecia dove è stato diciamo un esperienza una prima esperienza forte perché ho vissuto tutti i lati belli e i lati brutti di questo di questo modo di vivere e poi diciamo l'esperienza in germania è stata quella diciamo dove mi sono formato veramente perché raggiungere la germania è stata proprio una cosa avventuresca perché ho dovuto entrare illegalmente in questo paese il mio percorso diciamo è stato un po ritardato per per le mie idee o per quello che era il mio obiettivo di giocare nel mondo del calcio ti è costato 800 euro vero passare il confine cieco tedesco non mi ricordo bene se 800 1200 euro ma mi ricordo che mi erano rimasti in tasca 1000 1400 euro trovarmi poi dopo al monaco di baviera a un'età di 17 anni senza nessun aiuto senza niente e vedere una diciamo una cultura molto diversa dalla dalla mia dalla nostra però ero molto determinato avevo idee chiare me la sono preso con con grande orgoglio questa sfida perché sapevo e aveva un obiettivo di di realizzarlo di giocare un giorno in bundesliga per me è impossibile immaginarle mi racconti ci racconti un po questa fuga come è stata per andare in germania ma dovevamo prendere un volo per repubblica cieca per praga perché era all'epoca potevamo prendere solo visti nei paesi dell'est europa repubblica cieca era quello che era più vicino al confine tedesco e poi da lì i contatti con la malavita cieca diciamo che ti garantivano questo fatto di attraverso un pagamento di entrare in germania mi ricordo la neve mi ricordo il freddo che faceva lì il bosco che dovevamo rimanere per più di tre quattro ore aspettare finché loro venivano e poteva succedere di tutto lì dentro perché ti potevano anche fare altre cose e nessuno sapeva niente però è andata bene sai è andata bene è stata un'esperienza dura molto molto forte molto dura per un ragazzo di quell'età quando sono arrivato in germania ho capito che la scelta che avevo fatto nei confronti dei miei genitori la responsabilità che avevo preso nei confronti di loro mi dava la forza di non deludere la fiducia che mi avevano dato perciò sapevo che dovevo passare attraverso una strada molto più lunga da quello che mi immaginavo ma ero determinato di raggiungerlo è molto paura tanto no perché non sapevo che che mi avrei aspettato questa cosa qui pensavo che se uno poteva morire anche durante del viaggio detto proprio davanti sì assolutamente sì è un è un rischio è un rischio che uno lo prende ma gli realizzavo che magari era forse inutile a fare questa scelta che avevo fatto ma una volta presa la decisione ho detto che vorrei andare fino in fondo non è stata facile perché sono passato da da un giocatore di grande prospettiva nel calcio mi ricordo di aver giocato sei mesi o sette mesi prima il campionato del balcanico dell'under 18 dove ho preso anche il premio come il miglior giocatore del torneo perciò passare da da un giocatore di grande prospettiva a qualcuno che doveva cercare dei club per fare dei provini è stata è stata molto dura per me peraltro era il 1994 se non sbaglio nel 91 in italia era arrivata la vlora che fu un evento epocale anche per l'italia con 20.000 tuoi connazionali cioè diciamo che era era una situazione crea iniziata tanti anni prima tanti tre anni prima ma io non sono arrivato al 94 in germania io sono andato diciamo un anno o sei mesi dopo della nave l'ora sono andato in grecia e poi lì ho visto poi dopo la caduta del regime quando ero in grecia le proteste a tirana eccetera dopodiché sono tornato dopo un anno di esperienza in grecia sono tornato in albania perché non mi trovavo bene in grecia per mentalità le cose come sono andate e ho puntato di andare in germania in germania hai trovato subito quello che cercavi guarda la mia storia è una storia penso da da film perché veramente da film perché all'epoca non avevo nemmeno soldi per fare per fare per comprare un paio di scarpe andare correre perciò avevo una tutta portata con me diciamo dall'albania e correvo con le scarpe normale che la gente usano per camminare da strada perciò mi ricordo al manheim la prima mia esperienza che sono stato correvo lungo il fiume e vedevo la gente che correvano e mi guardavano strano con con quelle scarpe lì però io dicevo non sto facendo niente di male sto cercando di correre anch'io poi prendevo la borsa con un paio di scarpe dal calcio che avevo e andavo nei club di manheim o ludvigshafen che era una città dove da una parte del fiume era una città dall'altra parte un'altra cercavo di capire dove potevo trovare diciamo la mia fortuna tu eri un irregolare però praticamente all'inizio all'inizio si ero un irregolare poi andando facendo un provino a una squadra di serie c tedesca sono entrato mi ricordo un pomeriggio vedevo dei fari accesi in un campo sportivo mi sono informato che era una squadra di serie c sono andato lì un giorno in allenamento ho chiamato l'allenatore gli ho detto scusami se interrompo l'allenamento ma vi volevo chiedere se mi date la possibilità di fare un provino si è messo a ridere ma poi dopo mi fa dai cambiati entri con noi in allenamento sono entrato subito dopo mi hanno detto devi devi firmare con noi ha smesso di ridere dopo 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 l'allenamento mi diceva allora giocare in calcio com'è come la tua storia gli ho spiegato un po come era la situazione e mi hanno consigliato di cercare di per avere anche una possibilità di prendere più soldi perché erano all'epoca non pagavano tanto in serie c la possibilità di fare un di cercare un asilo politico cosa che lo fece per tre anni è vero facevi anche il giardiniere in quel periodo che hai fatto il giardiniere sì sì no beh loro l'allenatore lavorava nel comune della città e lui mi disse che siccome erano mezzo professionisti mi disse che se vuoi guadagnare più soldi devi anche cercare un lavoro così ti posso anche aiutare perciò mi hanno trovato questo lavoro da giardiniere che è durato sei o sette mesi è stata un'esperienza bellissima i primi giorni mi vergognavo perché il mio sogno era un altro ero finito a fare giardiniere nei quartieri della città però lo facevi per inseguire il sogno il motivo era per questo sai solo che non pensavo mai diciamo di aver fatto quell'esperienza ma dopo è stata penso la più bella esperienza della mia vita perché ho imparato cosa vuol dire il sacrificio nella vita perché mi dovevo svegliare sempre alle quattro e mezza per andare poi dovevo arrivare al lavoro alle sette dalle sette alle tre e mezza a lavorare poi subito dopo andare direttamente in allenamento per arrivare a casa verso le 8 9 di sera distrutto e ripartire il giorno dopo e questa cosa qua è stato molto molto utile anche per farmi capire veramente i valori della vita anche il tuo percorso calcistico in Germania è da fin perché squadrette, squadre semi sconosciute, Casrue, Fortuna Dusseldorf, Kaiserslautern e poi vabbè hai preso il volo qual è il momento esatto in cui hai capito ecco ce l'ho fatta e in cui magari l'hai comunicato anche ai tuoi genitori che ti hanno dato questa possibilità? ma all'epoca i miei genitori mi chiamavano sempre perché non li ho visti per quattro anni perché non potevo tornare in Albania perciò è stato una trauma non potevi? perché avevo chiesto asilo politico che mi impediva di tornare nel paese e nei miei genitori potevano venire perciò è stato... i primi tre anni sono stati traumatici però la cosa più bella era perché io dalla vergogna non giocavo con la squadra che ero in Serie C e attraverso un conoscente che aveva in Karlsruhe tanti locali dove andava uno dei quali è l'allenatore dell'epoca Winfried Schaefer che è un allenatore molto famoso in Germania anche con Cameron vince la Coppa d'Africa e attraverso lui mi dissero la possibilità di fare un allenamento, una prova con il calcio e tu andavi a cercarlo nei locali per convincerlo a far... no, conoscendo questo amico che conosceva lui l'allenatore dove lui mangiava sempre da questo e gli parlava di me che c'è un ragazzo che ha un sogno eccetera eccetera e vogliamo aiutare se è possibile di dare questa possibilità allora lui accetta e immagina lo shock per me perché da un giocatore che non giocava giocava con la seconda squadra della squadra che giocava in Serie C andare a fare il provino con la squadra che aveva appena eliminato il Valencia dai quarti di finale di Europa League battendo lo 7 a 1 con Thomas Hustler capitano, Oliver Kahn, erano una squadra di campioni e io da un giorno all'altro mi trovo in mezzo al campo allora vedo... arriva Hustler e io mi ero nascosto dietro tutti al campo perché non volevo che lui mi vedesse in quel momento lì ma mi guarda e mi fa le domande che io non volevo perché mi dice di dove sei? Arbanese, tutti a ridere e poi dove giochi? Ludwig Saffer, ma cos'è una squadra? che non lo conosceva neanche non sapevo neanche allora fa una battuta ridendosi all'allenatore allora domani porto anche io il mio vicino di casa si parla era una battuta quella battuta però è stata per me molto motivante perché gli ho detto adesso ti faccio vedere io se cambi idea di portare il tuo vicino di casa e quando finisce l'allenamento viene da me e si scusa mi dice cavolo sei bravo allora ti chiedo scusa non lo sapevo e l'allenatore mi disse se potevo tornare per fare tre settimane di prova perciò io non sapevo come fare perché da un lato arriva la squadra, da un altro lato non sapevo come organizzare però ho detto ok va bene vengo e per tre settimane ho fatto un provino con la squadra sperandosi nel mio sogno cosa che dopo tre settimane è stato realizzato parlandosi con l'allenatore dove mi conferma di darmi un contratto biennale con la squadra di Bundesliga che meraviglia allora mi ricordo che era mentre aspettai lui a parlare c'era un muro allo stadio e quando lui mi comunica che aveva deciso di darmi il contratto io pensai che stava scherzando e allora dico va bene vieni tra tre quattro giorni mi fa per firmare il contratto e io il passaggio da qui a quel muro che erano di tre quattro metri è stato per me il cammino più lungo della mia vita perché non vedevo l'ora di andare all'angolo di scappare di corsa perché aspettavo che lui mi chiamasse per dire sto scherzando allora vado via scappo scappo via chiamo la persona che mi aveva aiutato di comunicare del fatto che aveva fatto questo contratto è stato il momento più bello della mia vita perché ero fiero di me ero fiero di quello che avevo realizzato e che non vedevo l'ora di iniziare questo percorso ma la storia più bella è stata dopo due settimane che io firmai il contratto ero nello spogliatoio non aveva detto niente ai compagni della mia ex squadra allora mentre eravamo lì a cambiarsi per iniziare l'allenamento c'è la radio che fa le notiziai delle 5 di pomeriggio dà la notizia dello sport dove dice che il Karlsruhe SC annuncia il primo acquisto per la stagione 95 96 in Italia e gli altri non lo sapevano non lo sapevano niente nessuno dei miei compagni perciò sono rimasti tutti scioccati dalla cosa ma poi dopo è stata una gioia una gioia anche per loro e gli auguri anche se non capivano come era possibile ma per questo dicevo prima che è una storia da film perché io penso e credo molto nel destino nella vita sai però il destino ognuno di noi ce l'ha devi solo sapere cogliere quando è il momento giusto e di cercare di portarlo il più avanti possibile sembra di capire che oltre al destino ci voglia anche però una certa dose di solidarietà umana perché se tu non avessi incontrato determinate persone che ti hanno aiutato poi magari sarebbe andata allo stesso modo però insomma così ti hanno aiutato sì tu ci hai messo tanto del tuo però c'è stato bisogno anche dell'aiuto per questo dico che a volte ci sono delle favole questa è una favola che non succede mai per me è successo e ho cercato di ridarlo qualcosa indietro quando è capitato con l'arrivo di Onazzi l'ex giocatore della Lazio alla Lazio quando l'ho visto entrare nel mio ufficio insieme a un prete e un suo diciamo compaesano che sono venuti dopo che 8-9 squadre in giro per Europa non li avevano accettati quando li ho visti e ho saputo della loro storia mi è subito ricordato la mia storia perciò gli ho dato la possibilità di allenarsi con noi con la primavera della Lazio dopo due settimane decise di fare il contratto non perché volevo fare come hanno fatto con me ma perché se la meritavano anche di avere il contratto e poi sappiamo bene anche come è andata la storia di Onazzi che ha fatto una carriera più che di Itosa con un prete rappresentato e con un prete e con il prete cosa ti disse? erano rappresentate di una chiesa che è molto forte in Nigeria che avevano questi due giocatori che avevano appena finito il mondiale dell'Under 17 in Nigeria come vice campioni del mondo e che cercavano la possibilità di aiutare questi due ragazzi che erano membri della loro chiesa allora della Germania abbiamo detto e ribadisco c'è una storia incredibile nel 2001 arrivi in Italia al Brescia come nasce la possibilità di venire in Italia? ce l'hai raccontato nella prima parte di questa intervista cioè l'Italia comunque ce l'avevi in testa da tanto tempo era bello perché la settimana prima ero a casa che guardavo la mia moglie il derby di Milano Inter Milan a 27 anni e gli disse alla mia moglie che era il mio sogno di giocare in Italia ma mi sa che non si può realizzare perché a 27 anni forse è troppo tardi e una settimana dopo poi dopo mi trovo sul campo a giocare contro Brescia a Milan contro... sono entrato nel secondo tempo e vedendo chi mi marcava mi tremavano le gambe perché era Maldini e Costa Curta e all'epoca erano la storia del mondo sai perciò è stata una cosa... è una cosa bellissima però mi ricordo lo scherzo che abbiamo fatto al presidente Corioni insieme a Gianluca Nani il mitico braccio di legno vero? il mitico braccio di legno sì perché era tanto stupore nei miei confronti perché un centravanti... il Brescia all'epoca cercava un centravanti disperatamente che non lo trovavano allora Nani si presentò a Kaiserslautern la squadra dove giocavo e abbiamo fatto questa trattativa per due giorni alla fine positivamente conclusa e mi disse di fare uno scherzo al presidente Corioni perché erano tutti curiosi di me un albanese tedesco e allora mi disse che dobbiamo dire al presidente che purtroppo tutto firmato i documenti depositati così ma io avevo un problema che non avevo un braccio e avevo un braccio di legno Edo Piovani che è una figura incredibile a Brescia mi ha raccontato proprio quel momento e a firme avvenute il procuratore tuo e Nani dicono a Corioni no è fortissimo però sai quel problema poi lasciano decantare la situazione dico no no ma davvero presidente è forte ma quel problema al che Corioni si incuriosisce e dice quale problema gli dicono ha un braccio di legno No ma lui era preoccupato perché io sentivo le urle al telefono che diceva a chi lo dice adesso a Mazzone a Carlo Mazzone perciò mi ricordo l'arrivo a Erbusco nel Turing nell'albergo vedevo un uomo che girava intorno a me ma non sapevo che fosse lui mi guardava e girava una volta a destra una volta a sinistra si girava allora non capivo chi era lui allora gli chiedo ai Doppiovani dico ma che vuole questo qua come sai il nostro presidente sta guardando se il braccio è davvero di legno allora mi sono scoppiato a ridere vado da lui e gli dico buongiorno presidente allora lui guardava la mia mano e lo guardavo così mi fa ma questo è vero si è girato verso di loro le bestiemi le risate tutti quanti ma poi il più bello ricordo c'ero anche con Mazzone perché mi ricordo mi portavano mi portavano nella sua stanza in albergo e lui mi riceve e mi guardava e mi diceva mi sa che tu giochi in basket non giochi in calcio allora gli dice guarda mister io gioco anche bene molto bene in basket perché ho giocato tutti e due però preferisco il calcio e lui no lui disse andiamo bene ma era molto scettico nella cosa e poi mi ricordo nel secondo tempo nel Brescia Milan mi fa entrare a 20 minuti dalla fine io ero molto emozionato a me arriva una palla lunga da da un difensore se non mi ricordo male da Bonera cercai di stoppare la palla di petto e dall'emozione faccio sbaglio tutto e la palla rimbalza 20 metri mi parte un contropiede del Milan e quasi fanno gol mi giro verso la banchina e vedo Mazzone che si gira verso la tribuna ah oh ma dove cavolo non l'avete trovato questo qua e non ha detto cavolo conoscendolo non ha detto cavolo però è stato bello perché subito dopo nella partita successiva a Bari sono entrato e ho segnato il mio primo gol in Serie A perciò da lì poi dopo è stato un un girone di ritorno da record da penultimi in classifica siamo finiti settimi in classifica quell'anno lì e siamo arrivati fino alla finale della Coppa Intertoto perdendo la finale pareggiando due volte con Paris Saint Germain 0-0 a Parigi 1-1 a Brescia perciò e anche il legame mio con il Brescia è molto molto forte come lo stesso anche quello di Bologna dove ho trascorso due anni molto belli tra l'altro lo scetticismo di Mazzone in quella prima partita era lo scetticismo della piazza dei tifosi della gente sostanzialmente sei stato accolto così e questo chi è ed era un giocatore albanese che arrivava in una città dove era fortissima la Lega Nord quindi c'erano tante cose potenzialmente esplosive e invece ti è bastata una partita e mezza per far cambiare idea a tutti mi ricordo molto bene i momenti con gli albanesi ovunque andavo per strada uscivano dai negozi dai ristoranti se sapevano che ero lì che mi baciavano le mani le gambe le cose perché erano molto felici che finalmente un loro co-nazionale li poteva rappresentare nella migliore maniera possibile perciò è stato come l'ho detto all'inizio dell'intervista per me era un peso molto importante io non ero un giocatore semplice io rappresentavo anche il mio paese cercavo di rappresentarlo nei migliori dei modi perché sapevo che con questa cosa facevo molto aiutare la mia gente invece la cosa più bella in assoluto che hai visto fare a Mazzone so che puoi scegliere fra mille aneddoti due cose sono molto li ricordo con molto piacere la corsa dopo il gol famoso questo lo sospettavo sì ma perché era nella storia perché mi ricordavo noi segniamo il 3 a 3 contro l'Atalanta si guardavamo e tutto lo stadio guardava da un'altra parte quando siamo girati a vedere la famosa corsa ma la più bella cosa con Mazzone era il fatto che lui aveva diciamo una cosa che ogni domenica mattina prima della partita la prima persona che si incontrava nel corridoio lo ammazzava lo insultava in tutti i modi senza nessun motivo perché era un suo rituale perciò tutti quanti prima di uscire diciamo dalle camere per fare colazione guardavamo se girava lui per l'albergo ma purtroppo c'era c'era solo un ragazzo che lo beccava sempre Simone Del Nero che ha giocato lui era quello che lo beccava quasi sempre ogni domenica perciò queste solo due cose mi ricordo mi ricordo sempre un grande piacere tornando alla corsa di Mazzone cioè nel momento esatto in cui ti accorgi quello che sta succedendo cioè cosa pensi? ma cosa pensi? pensi che è un folle è un paccio che fa questa cosa ma se conoscevi Mazzone sapevi che lui era era il vero senso del calcio era proprio il modo suo di essere era bellissimo sai le sue battute il suo dialetto romano il suo modo di motivare i giocatori sai tutte le cose così in quella corsa lo rappresentavano in tutto e per tutto perché era un uomo molto orgoglioso dei suoi radici ma soprattutto anche di un grande legame con la sua famiglia poi vi siete piaciuti talmente tanto che siete andati a Bologna insieme che esperienza è stata quella di Bologna? la mia diciamo esperienza con lui è stata un'esperienza di amore e odio sai è l'allenatore che gli sarò grato tutta la mia vita perché quello che è marinato più e lungo di tutti quanti quasi cinque stagioni quando mi portai a Bologna le premesse le promesse erano diverse ma poi dopo sono state cambiate ma poi dopo la stima e il rapporto era un qualcosa al di là del calcio che avevamo avuto insieme perché le premesse quali erano? no perché mi avevano acquistato l'ultimo giorno del mercato perché Julio Cruz si trasferisce all'Inter e lui mi ha voluto a tutti i costi a portare a Bologna con le premesse che dovevo giocare titolare cosa che non è accaduto perché erano altri giocatori Fausto Rossini se non mi ricordo male era Rossini e ho dovuto fare un altro percorso lì nonostante che avevo diciamo il posto sicuro al Brescia perché venivo da una stagione forse la mia migliore stagione nella mia carriera qui in Italia ho fatto questa scelta ma direi che il legame mio con il Bologna è unico ho trascorso due anni bellissimi ho trascorso lo ricordo con grande piacere come piazza come gente come cultura come mentalità ma soprattutto mi dispiace molto che sia conclusa con una retrocessione dopo un spareggio contro il Parma e ogni volta che tornavo a Bologna dopo sia da giocatore ma anche da dirigente il rispetto che la riconoscenza nei miei confronti allo stadio era era molto toccante per me perché mi rispettavano tanto e mi sentivo in corpo perché mi sentivo di aver fatto parte di quella squadra che è retrocessa ma nonostante tutto mi hanno sempre riconosciuto diciamo il mio modo di essere il mio modo di giocare dove davo sempre il 100% del campo e lo porto con grande piacere e poi nel 2005 è arrivata la Lazio oggi 19 anni dopo mi dai la tua definizione di Lazio difficile trovare una parola di questa cosa qua è un legame che è cresciuta negli anni perché il mio arrivo alla Lazio era in un momento diciamo finale della mia carriera perché sono arrivato a 32 anni e l'unica cosa che avrei voluto cambiare è il fatto di avrei preferito di arrivare molto prima aver avuto la possibilità di fare qualcosa nella maniera diversa non era una scelta dell'epoca del direttore Sabatini e dell'allenatore era una scelta fatta dal presidente e non sapevo di questo fatto qui quando sono arrivato l'ho capito diciamo nel tempo eri il guardiola di Brescia ero un po' il guardiola di Brescia però ho avuto degli anni con alti e bassi i tre anni trascorsi da giocatore è stato bellissimo perché abbiamo raggiunto il secondo anno abbiamo raggiunto anche la Champions League un terzo posto in campionato nel 2006 se non mi sbaglio era un'esperienza diciamo che avrei voluto vivere in un'altra maniera da giocatore ma è stata un'esperienza molto utile che mi ha aiutato tantissimo poi dopo nel ruolo del direttore perché avevo la fortuna di conoscere la piazza e avevo un punto di partenza positivo diciamo è stato più bello viverla da calciatore o da direttore sportivo ed è stata più difficile viverla da calciatore o da direttore sportivo ma guarda fare il calciatore io penso che è il mestiere più bello che esiste però a volte i calciatori hanno una maniera di vedere le cose nella maggior parte dei casi sbagliata perché manca tanta esperienza manca tanta diciamo determinazione le epoche sono cambiate adesso le generazioni sono anche cambiate viviamo nel mondo dei social dove tutto diciamo è cambiata e avrei voluto diciamo preferito di avere la testa nel post carriera anche da giocatore anche se io ho fatto un percorso importante ma tante cose le avrei le avrei voluto cambiare sai e questo ho cercato anche di trasmettere anche con i giocatori che ho portato qui alla Lazio a cercare farli capire che la visione nella vita non devi essere a 160 ma devi essere a 360 gradi di cercare di capire anche cosa vuol dire il ruolo di un allenatore e il ruolo anche di un direttore sai che che sono fondamentali però penso che è stato molto più difficile da direttore perché passare dal campo dietro la scrivania in una situazione che penso anche folle come era il mio inizio nel calcio tedesco nel Kalsruhe così è stato anche dal direttore perché sono entrato negli uffici di Dottito per firmare un contratto da giocatore un rinnovo da giocatore sono uscito con un rinnovo dal direttore non avevo nessuna esperienza ma soprattutto le più grandi difficoltà sono state con i miei ex compagni perché li potevo capire anche il fatto le domande che facevano tra di loro e le domande che mi sono fatto anch'io da solo perché dicevo non è possibile come mai Dottito ha fatto questa scelta ma aveva visto bene diciamo alla lunga aveva visto bene tutto perché lui sapeva che io parlavo tante lingue sapeva che aveva una conoscenza profonda del calcio non solo italiano ma anche europeo ma soprattutto che ero anche una persona che veniva completamente fuori da un sistema soprattutto quello romano e mi serviva una persona come me ma soprattutto anche con un carattere molto forte e determinante e hai citato tante volte Claudio Lotito chi è Claudio Lotito per te? ma una persona fondamentale per la mia vita sai una persona che mi ha dato tanto sarò sempre riconoscente a questa cosa qui a questo fatto perché ha dato nelle mani di un ragazzo senza esperienza di 35 anni la sorte di una società importante del calcio italiano perciò questa scelta qua ha un ruolo fondamentale nella mia vita perché è fatta da un uomo che aveva visto a lungo e questa cosa qua una persona se la deve portare con sé anche nei momenti più belli come sono stati diciamo dopo 15 anni dove sono state tante proposte di altri club dove io parecchio di loro li ho rifiutati anche per riconoscenza nei suoi confronti per quella scelta fatta nella mia fine della mia carriera perciò è un uomo dove profondamente abbiamo un legame forte io lo so questa cosa perché l'ho visto nei suoi occhi nel suo comportamento e lui lo sa che esiste ancora oggi questo legame ma nello stesso momento siamo stati due uomini con carattere molto molto forte a volte frutto di tante discussioni importanti ma lui aveva una capacità importante di scordarsi sempre subito dopo un litigio pesante anche di scordarsi di questa cosa e di andare avanti poi diciamo la fine della nostra storia è come la fine di di un rapporto consumato negli anni ma che rimane sempre un rapporto bellissimo qual è il litigio più furioso e furibondo che avete fatto? ma no non erano litigi furibondi erano più litigi per fargli capire diciamo a volte il percorso che deve avere una società soprattutto anche il percorso ma non a livello della gestione societaria ma parliamo sempre del lato tecnico quello che doveva essere un centro sportivo di una società come la Lazio o anche di spiegare tante volte il perché di determinati giocatori eccetera che a volte erano condivisi a volte non ma nei tempi poi dopo diciamo sono usciti fuori questi sono diciamo quotidiani anche ovunque nelle altre società queste cose qua però fatte da due persone diciamo di carattere forte a volte da delle scosse anche forte e abbiamo parlato di Claudio Lotito invece chi è stato chi è per te Maurizio Sarri? è un allenatore diciamo che sul campo è molto bravo lo considero una persona capace fuori del campo è difficile da da creare un rapporto o diciamo di comunicare ma non è una novità quello che sto dicendo io perché ovunque lui è stato ha avuto questo lato qui caratteriale che non era facile da da gestire ma eravamo consapevoli di di questo fatto qui perciò anche la scelta fatta all'epoca tre anni fa era perché si chiudeva l'era di Simone Inzaghi che era la storia della Lazio era uno che se non mi sbaglio che ha passato più anni nella storia della Lazio e quella scelta era basata sul fatto che dovevamo creare un progetto completamente scioccante o opposto di quello che avevamo con Simone Inzaghi cambiandosi a 360 gradi anche sulla scelta dell'allenatore diciamo però è stata una scelta mia di portarlo da Lazio condivisa insieme al presidente per il fatto che poteva dare qualcosa in più a questa piazza si è dimostrato un problema questa mancanza di rapporti fuori dal campo non ho mai avuto problemi con lui è stato detto tante cose anche da giornalisti che non rappresentano al meglio questo mestiere non ho mai avuto un problema con lui questo me la conferma anche in una cena prima dell'ultima partita dell'ultima stagione che abbiamo avuto il modo dove anche lui stesso diceva che non abbiamo mai avuto un problema personale le vedete fanno parte del nostro mestiere perché lui ha il suo modo di vedere il calcio io il mio modo di vedere il calcio l'unica cosa che noi dobbiamo essere bravi a fare è che la sua e la mia visione devono combaciare per il bene della società per raggiungere degli obiettivi e a volte qualche frazione può creare diciamo delle discussioni ma alla fine conta l'obiettivo perché non possiamo andare tutti d'accordo sempre ma abbiamo un obiettivo in comune e l'anno scorso è stata anche la dimostrazione che non era una casualità quel secondo posto non era perché gli altri non hanno saputo di cogliere il momento ma era frutto di un lavoro di una squadra forte con giocatori forti con un alleatore che è saputo guidare fino a questo secondo posto in meriti vanno alla squadra e lo staff dell'alleatore che hanno raggiunto questo obiettivo e il suo arrivo alla Lazio era proprio con questo diciamo motivo lui doveva fare quel salto di qualità a livello di mentalità della squadra di sapere anche non avendo i mezzi che hanno le altre società ma attraverso l'organizzazione e il gioco di essere brava per diciamo lottare per questi obiettivi perché non ci scordiamo la razza del prima del prima del covid la stagione di quell'anno lì non ci scordiamo della razza che degli ottavi di finale in Champions League sapendo anche i mezzi che abbiamo avuto per investire Sari lo sapeva anche molto bene perché l'ha accettato l'offerta nostra sapendosi che il nostro percorso era basato sull'organizzazione e sulla valorizzazione dei giocatori non su investire soldi e poi dopo sperare di raggiungere gli obiettivi anche perché la storia di questa società era legato con il fatto di uscire da un periodo nero in un periodo bello io sono fiero di aver contribuito a questo percorso di questa società hai parlato di Simone Inzaghi ti stupisce il lavoro che sta facendo l'Inter? sai ho avuto modo di fare qualche intervista durante questo anno diciamo così alla fine poi diventa banale a dire se sono stupito o non sono stupito io posso dire che quando abbiamo fatto la scelta di puntare su di lui all'epoca quando ha smesso di giocare io ero consapevole che lui poteva fare questo tipo di carriera di percorso perché è una persona molto profonda magari non ti dà la sensazione da fuori perché è un bel uomo un bel ragazzo sai sempre scherzoso le cose ma quando stavi con lui era una persona che conosceva molto bene il calcio molto bene le dinamiche che servono nella gestione di un spogliatoio così ma è anche bravo nel momento opportuno di avere la fortuna andare a sua parte ma a volte questa fortuna non è perché uno è fortunato è perché è frutto di un modo di gestione che ti porta che le cose poi dopo arrivano a quel momento lì e sono veramente molto fiero e felice per lui per quello che sta facendo ma penso che può fare ancora molto meglio perché adesso ormai si è consagrato come un allenatore diciamo di prima fascia a livello mondiale da direttore sportivo della Lazio il colpo di cui sei più orgoglioso guarda ovvio sai quando fai questo mestiere ti viene in mente il primo colpo diciamo il primo sono due primi colpi diciamo uno è Cristian Brocchi perché era il primo giocatore della mia scelta lui veniva da un periodo non bello al Milan poi dopo alla Lazio è stato fondamentale soprattutto nel primo anno perché con il suo carattere con la sua diciamo determinazione con la sua esperienza vissuta al Milan ha aiutato tantissimo la squadra a raggiungere degli obiettivi e l'altro è Hernanes perché Hernanes è stato il mio primo grande colpo diciamo vero c'era tanto scetticismo all'epoca quando io volai in Brasile per cercare di concludere questa operazione tutti erano convinti che non sarebbe successo questa cosa qua anche perché il ragazzo aveva tante squadre dietro a lui più blasonate anche di noi con anche con offerte economiche fondamentali ma la mia esperienza è stata bellissima perché in otto giorni che sono rimasto lì il suo agente era un agente spettacolare come persona è un cinese brasiliano con il suo modo di fare come il film del karate kid dell'allenatore metti la cera togli la cera mentre io dopo due giorni tre giorni ero incazzato perché il giocatore aveva tanti percentuali da diverse persone perciò prima ti dovevi mettere tutti d'accordo e poi dopo di concludere con il club che è una folia un casino perciò dopo tre giorni facevo il check out per tornare a Roma e lui mi diceva calma calma lo facciamo allora tornavo indietro e poi il giorno dopo di nuovo e per questo è andato avanti per 4-5 giorni quando abbiamo concluso poi dopo è stato fondamentale lui lì si chiama Joseph Lee è una persona eccezionale che lo ricordo con grande stima una persona di valori veri in questo mondo è il ragazzo stesso perché aveva io ero in una stanza e nell'altra stanza era il Lione e faceva nel club faceva due tratative parallele e non sapevo questo fatto qui l'ho capito solo alla fine e il ragazzo è entrato dall'altra stanza dicendosi a loro grazie so che prenderò quasi il doppio di quello che mi hanno fede dall'altra parte ma dall'altra parte vedo che c'è tanta passione amore e volontà di portarmi a tutti i costi a Roma perciò ho scelto di andare alla Lazio e per me quando sono tornato è stato veramente il mio vero primo vero colpo a livello internazionale invece esiste un colpo sfumato all'ultimo secondo che sarebbe stato clamoroso per la Lazio sì ma erano dipende dalle situazioni sai a volte è difficile anche spiegare con chi fa il tifoso determinate dinamiche che sono nelle trattative dei giocatori perché come dico devi essere nel momento giusto nel posto giusto sai soprattutto quando sei una società che non ha i mezzi economici per lottare fino alla fine devi combacere tante situazioni insieme per arrivare a questi colpi finali però uno era Cavani all'epoca era in rottura con il Palermo e Zamparini io ho ricevuto i procuratori di Cavani e potevamo fare un prestito con diritto che diventava un obbligo di riscatto eccetera dalla parte del giocatore avevamo l'ok e tutto quanto ma poi dopo Zamparini ha detto di no e Cavani andrò al Napoli poi anche Kim penso che era perché l'avevo scoperto tre anni quattro anni prima di arrivarsi in Italia ho fatto anche un'offerta anche abbastanza importante con quattro mesi di contratto il 20 di agosto abbiamo fatto un'offerta di 5 milioni al Shanghai il club dove lui giocava in Cina ma con contratto in scadenza a dicembre non hanno voluto accederlo dopo due anni poi dopo il caccio cinese diciamo è crollato in quell'epoca io non potevo più acquistarlo perché non avevamo il posto di vedere extracomunitario e andrò per due milioni al Fenerbahce e poi il resto della storia la conosciamo senti trattativa invece di cessione insomma Milinkovic Savic al Milan lo sappiamo c'è qualche altra trattativa che è rimasta nascosta che ci puoi raccontare le basta una no perché sai più o meno sono state l'ho dito è una persona che non piace tanto accedere soprattutto è una persona che si affeziona con i giocatori così e non sono state diciamo tutte le cessioni che abbiamo fatto sono state dovute anche alle richieste dei giocatori come Lucas Biglia come Candreva come Keita sai lo stesso Hernanes sono sempre state queste diciamo o questo tipo Milinkovic c'era la possibilità di fare una plusvalenza importante che sarebbe stata importante anche per gli ultimi tre anni diciamo della gestione nostra perché erano delle proposte molto importanti ma lui ha sempre diciamo cercato di andare avanti e di cercare di gestire la società anche diciamo con un po' di difficoltà ma sempre con la consapevolezza di tenere dei giocatori forti giocandosi nella Lazio avete mai trattato la cessione di Ciro Immobile? mai mai perché è stata una richiesta da un club cinese dove offrivano anche 50 milioni ma non era proprio il senso perché per cedere a un giocatore come Ciro Immobile è per cedere poi dopo una storia pezzo grande della storia di questa società adesso lui sta attraversando un momento difficile frutto però di una mancanza secondo me di fiducia che non non la sente più nei suoi confronti e che lo fa soffrire perché lui è una persona che ha bisogno di sentire questa fiducia addosso a 360 gradi e io penso che il suo tempo non è arrivato ancora alla fine perché è un attaccante che se la fai giocare in un determinato modo e che gli dai determinati palloni è ancora in grado di essere un attaccante da doppia cifra ti fa star male vederlo così? no perché fa parte fa parte di questo mestiere non mi fa male però non mi fa star male però lui sa qual è il percorso penso anche Sari lo sa è lo stesso lo dito sono gente che lo stimano anche Ciro però ci sono stati anche per altri campioni questi momenti no sai da questi momenti puoi uscire attraverso la fiducia che tu hai in te stesso sai la determinazione gli altri devono essere bravi a non metterti in discussione in determinati momenti perché quando tu senti questo fatto qui allora sei te responsabile per tornare magari accedere ancora di più diciamo il suo rientro a essere Ciro Immobile che è sempre stato ma cosa è di speciale Ciro Immobile con la Lazio perché è un rapporto clamoroso ma lui veniva da due esperienze non belle non positive quando l'abbiamo acquistato dal Siviglia aveva bisogno di un rapporto molto forte sia della fiducia sia della società ma anche dall'allenatore così è stato sai è stato un amore diciamo che non di prima vista ma che è cresciuto sempre di più onestamente nessuno ci poteva credere che lui in così poco tempo poteva diventare quello che è diventato perché la media dei gol fatti da lui sono irreali perché è sempre stato un attaccante che ha segnato una media se non mi sbaglio di più di 24 25 gol all'anno che è una cifra enorme è stato anche capace diciamo di portare questo peso avanti anche frutto di questo legame fatto tra società allenatore nei suoi confronti l'ultima è questa se mai l'ottito ti dovesse richiamare tu cosa diresti non lo so ti dico sono onesto non ti so rispondere a una domanda del genere perché non non dico che sto parlando parole molto belle nei confronti della società ma in questo momento non è questo la mia priorità in questo momento è il fatto di avere la chiarezza dopo tanti mesi uscito fuori di aver fatto la scelta giusta di di andare via anche perché volevo lasciare la Lazio al top è sempre stato questo desiderio e un giorno gli disse anche la mia moglie la mia ultima partita con la Lazio lo immagino con l'istadio tutto esaurito ci siamo messi a piangere io e lei l'anno scorso perché è stato un Lazio cremonese dove lo stadio era tutto esaurito allora quando ho visto la mia moglie allo stadio ci siamo abbracciati e lei si è messi a piangere perché si è ricordato di quella di quella frase che avevo detto anni fa e io gli disse che è arrivato il momento perché anche da lassù mi ha dato un segnale perché mai sarebbe stato un Lazio cremonese con lo stadio tutto esaurito perciò era una piccola cosa che mi dava la conferma di aver fatto la cosa giusta il conferma la tua è una storia da film quantomeno da libro io la vedo più che da film una storia da dare motivazione a tanta gente giovane a tanti ragazzi giovani che nella vita nulla si dà per sconfitta sai nella vita uno deve avere una voglia un desiderio di raggiungere ma soprattutto di non molare mai perché tutto si può realizzare ma tutto dipende da loro e che possono diventare anche anche forse meglio di quello che ho fatto in questa nella mia vita grazie grazie igli grazie noi ci vediamo e ci sentiamo la prossima settimana per un'altra puntata di storia di serie storie di serie storie di serie su radio serie a con rds